Senti, bro, quindi questa anguria, quanto me la vendi? Torna qua! Bro, bro, ma che succede? Mi hanno rubato i vestiti! Ma come? Mi hanno lasciato solo il casco! Dai! Ma bra! Perché? Ragazzi, ragazzi abbiamo un problema, ragazzi! Ragazzi ce ne sono i zombie! Cosa che hai detto? Scusa, stanno arrivando un botto di zombie! Come? È un casino! Sì, sta arrivando un'invasione intera, sono tantissimi! Dove stanno? Ci penso io! Ragazzi, venite! Dentro, qua dentro! Vai, 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 vai! Ma? Sono morto! Sono morto! Non c'è più un problema dell'invasione! Sì, grazie mille! Ok, ragazzi, allora... Ti ho detto che me la devi ridare! Ridammela subito! Ridammela! Grazie, ma guardate questo! Niente, ragazzi, sono riuscito a farmi ridare solo un pezzo dell'armatura! La spallina! Vabbè, è tipo un dungeon! Pian piano sblocchi tutta l'armatura! Esatto! Questo mi fa paura con sta lama elettrica! Non mi piace! Mi sono preparato! Oh! Vai! Oh! 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 Non dovete ammazzare! Perché? Perché? No! Io muoio e lui no! Ci penso io! No, no, no! 8 di vita! Per favore! Mori! Ciao! Sto vincenzo! Sto vincenzo! È morto! Ai, 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 ai! Ok! A posto? Sì, tutto a posto! Prendiamo quei camion laggiù gialli e dobbiamo riempire tutto! Quindi, facciamo così! Non c'è via il camion! Non c'è via? Non c'è via! Ma come, bro? Il giù non va! Allora, sai cosa si fa? Lo usiamo come carrello! Seguitemi, seguitemi! Usiamo solo uno! Va bene! Voi non sono due! Voi non sono due! No, è morto! Novi! Bro! Calmo! Quanti ne usiamo? Uno! Ok, risolto! Quindi, oddio, questi non è che c'entrano tanto! Proviamo, bro! Eccomi, ragazzi! Mi ha ripito già un carrello! Sono tornato di nuovo! Ma scusate, se lo volevo risponare! Controli un attimo! Wait! Ragazzi, non lo trovo! Vago? Mi si è schiacciato in destra il camiongino! Ciuf, ciuf! Ma non si possono guidare! Fraad, ma li ho comprati rotti! Bro! Ho ordinato ora su Amazon Prime! Wei, ora camminano! Salgo con te! Ok, andiamo verso la sista! Vedete quella struttura? C'è una zona piena di materiali! Insomma, prendi l'Italia! Quindi, le scusi! Oh, aiuto! Mi sto schiacciando contro il suo mercato! No! Non inventi questi materiali! Yes! Vai, bro! Vai, vai! Vai, vai! Vai, per darti lo spinto di me! È per andare più veloce, bro! Però ti... Ciò ti spara! Adesso! No, no, no! Adesso posizione! Posizione! Stai fermo! Stai fermo! Non ti muovere! Ti sto... Stai fermo! Non ti azzarderà a muoverti! Rimani immobile! Ti vengo! Aiuto! 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 Ti vengo! Ragazzi, stanno volando le... Posizione! Posizione! Sono verde! Via! Ok, quindi aiutiamo un foggo! Sto volando! Sto lavorando su... No, non li metti tutti... E si riempi quello che secondo me questo appena porti vola... Ma vero, andiamo solo al mercato! Che... Lì vendranno qualcosa! Arrivo, bro! Ok! Dovemo andare dal cane! Veloce! Andiamo, 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 andiamo! Sto tornando il cane! Ah, non lo sapete! C'è un cane che lavora al negozio! Ah, ma... Si chiama Paolo! Ma come Paolo? Che grande, Paolo! Sì! E sono tutti quanti di una grande famiglia! Venite, venite! Venite, venite! No, no! Cosa è che sta succedendo? Vieni, Tony! Basta! Vieni! Ti sconciuro! Vieni! Basta! Bravo! Ci sono, ci sono! Bravo, bravo, bravo! Aspetta! Eccomi! Ok, bravo, vieni, bravo! Ho portato tutti i materiales! No, ve li devo lasciare! Guarda, guarda, lasciateli qua! Lasciateli qua! Andiamo nel negozio! Venite, venite! No, bravo! Ho parcheggiato! Ma tu mi stai sparando! Stavo testando l'arma! No, non ti volevo prendere! Lo giuro! Lo giuro! Cosa vuoi rifà? No, no, no! Ok, ok, ok! Non so di che parli! Ragazzi, oh, calmi! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! No, no, no! Va tutto fuori! Abbiamo un'invasione squadra! Non mi a cui pensare! Ok, va bene! Allora, vedete il negozio! Non esisto! Non esisto! Ti lancio delle palline a gosso! Ti lancio una bomba atomica! Au! No! Sì! 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 Ok, signori! Benvenuti al dog shop! Ciao, cane! Ciao! Abbiamo uno spunto, visto che siete amici! Con me lo accarezzate! Guardate! Lo sto accarezzando molto, molto attento a me! Pure io lo accarezzo! Pure me lo stai accarezzando, lui! Ho sbagliato! No, no! Ragazzi, c'è un problema! Non mi piace questo! Non mi piace! Dove è sbagliato questo? Ho sbagliato questo! Ho sbagliato questo! Non esiste! Ragazzi, c'è un problema! Quale? Ho preso l'ascensore, ho trovato una capra! Bro, voglio vederlo! Aspetta! Ho trovato una capra! Aspetta! Ok, poco! Vedemi, stai dicendo che c'è una capra! Ok, andiamo a vedere questa capra! Tu non puoi venire! No, ve la voglio! Non scende! Non funziona! Ragazzi! Aspetta! No! Deve venire pure me! Arrivo! Ok, amici! Bro, ma... Ma seriamente! È una capra! La capra della vendetta! Ma è un compagno? Vi è perso qualcosa? Sì! Ah, ha una vita sopra! Ma che figata! Ma ci sei... Frega, mi segue! No, vabbè! Mio figlio! Ragazzi, ma ci sono cose strane qui dentro! Non c'è! No, fra io mi cago sotto! No, andiamoci in via! Ma non è che hanno fatto un po' gli esperimenti dell'apocalisse zombie che sta arrivando? Ma io non sapevo! Ma andiamoce! Sì, bisogna c'è l'ascensore, dovremmo volare! Venite, venite! Dov'è? Potere del volo! Quindi... Cos'era quel rumore? Sono displusore! Ma io che faccio l'ambulanza! Ok, comunque, signori! Venite, venite! Salite in macchina! Venite! Quanto? Dove sei? Ci sono! Ando con la capra! Non mi fa salire! Sono salito lo stesso! Ok, let's go! Andiamo! Aspetta! Ok, vai, vai, bro! Dove andiamo? Vedo delle persone laggiù! Aspetta, bro! No, aspetta, bro! Non so come risolvere! Visto che questa macchina è pure brutta! Visto che questa macchina è brutta! È un po' brutta questa macchina, bro! Dovevi prendere una migliore! Eh, non mi insultare la mia macchina! Ti mostro io una macchina bella! Questo qui! Ragazzi! Ci sono! Vai, Pago! Sali! Ci sto provando! Eh, mannaggia! Come si fa? Eh, vabbè, basta! Bro, sali! Io vengo con la mia, non mi interessa! Andiamo! Vabbè, bro, però... Io ho dei nemici laggiù, dovremmo attaccarli! Ma pure secondo me! Mi indica qualcosa! Ma sono le macchine! Fra! Oh, bravo! Queste sono perfette per barricarci! Sì, è vero, questo è vero! Hai investito i due! Aiuto! Oh, sparate! Spara, spar! Spara! Oh, oh, oh! Spara! 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 Raggio della morte! Spara! Ci sono rimasti i pochi! Vabbè, sta morendo! Spago di rianimo io! Dove sei? Vieni qua! E tu! Ma che sei? È morto tu! La capra mi ha sparati! Ma mi ha sparato la capra! Io adesso la ammazzo! Noi stanno... Capra! Capra, maledetta! Capra, muori! Dai! Ragazzi, ha uno sputo di vita la capra! Ci penso io! Eh, sempre da un evento! No, niente! Ragazzi, mi ha eliminato la capra! Ma è troppo forte! Ma è troppo forte! Ragazzi, la elimino io! No! Non posso! La elimino io! Oh, no! Congratulazioni! Dove è in sconfitto alla capra! Ma qua sono le macchine! Se le mettiamo sopra il camion e iniziamo a barricarci... Sì, sì, andiamo! Aspetta, bro! Te le metto! Stai fermo, bro! Vai! Bro, bro! Bro! Calmo! Stai fermo! Ok? Una messa, aspetta! Un po' più avanti! Io metto l'altra! Vai! 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 Non posso farlo! Vai! Però anche questa! Vai! Bro, bro! Due probabilmente entrano qui! Non è vero! Dove ce ne stanno due! E basta! Quella non c'è più rotta! Ce ne stanno anche tre! Bro! Arda! Aspetta, stai fermo! Come le portiamo? Bro! Stai fermo! Va bene, scusa! Mettiamo l'altra! Aiuto! Ok! Vai! Puoi guidare! Pasticcino! Io vi odio! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Scusa! Ci penso io! Scusa! Pietà! Pietà! Schifo! Ma dove siete? Schifo! Schifo! Questa è la mia vendetta! Eh, ok! Questo dovrebbe essere l'ultimo! Ok! Arrivando! Quasi tutto! Ciao, bro! Bibi! Bibi! Vieni, bro! Ok! Abbiamo pure le mattine per barricare! Ok! Va bene! No! No! Calmo, calmo! Ho sbagliato, scusate! Signori, è tempo di barricare! Questo sarà il nostro bunker per l'apocalisse dei zombie! Siete pronti a barricare? Non l'ho detto a sparare! No! Non l'ho detto a sparare! Non l'ho detto a sparare! Non l'ho detto a sparare! Non l'ho detto pronti a barricare! Ha ragione, bro! No! Lascia stare il mio pasticcino al cioccolato! Sì! Ok, signori! Ora dobbiamo essere sei! Dobbiamo collaborare! Perché sta per avere un'ora dei zombie come ha detto Tommy! Sì! Facciamo sta muraglia! Allora, uno, due... Facciamo il muro! Questo! Calmo, bro! Attenti che mi prendete! Volate, volate, volate! Per fare la muraglia! Vogliamo volare! Ah, ma dov'è la muraglia? Va bene, fai la muraglia! Dobbiamo crearla, se non c'è! Mi stavate per uccidere! Ragazzi, questo non è la muraglia! Guarda qua, guarda qua! Oh, scemo! Da qua è una muraglia, scemo! Bro, questo è uno schifo! Guarda, sto sistemando... Esatto! Così! Mettiamo questo! Ok, la macchina la mettiamo qua! Muraglia fatta! Ma vuole da altri container? No, abbiamo i camion! Oddio, aspetta! Un container può sempre servire per salire! Oddio, aspetta! C'era questo qua che ha preso Poggo! La scala! Questo è perfetto! È vero! Mettiamolo! Mettiamolo tipo... Ma vero, ma abbiamo il camion! Ma che ne stiamo a di? Mettiamo così il camion! Meno se funziona? È pieno di camion, ragazzi! Ragazzi, abbiamo il camion! Un po' difficile da salire, però... Perfetto! Ragazzi, calmi, aspettate, però... Il camion deve... Eh no! Ti penso affatto! Giù, sei salto in aria, io impazzisco! Fermi! No, ma che deve saltare in aria? Non ti preoccupare! Ho portato anche un tombino! Metti che serviva! Come hai trovato un tombino qua? Ma si può salire? Così si può salire? Troppo sicuro! È vero! Ok! Quindi siamo pronti, signori! Vieni, vieni! Giù, giù, giù! Quindi, signori! Qua c'è il megatelefono per chiamare l'orda! Sì! No, è molto utile! Voglio pure io lo scudo! Anche quello di Domi! No, non puoi! Ma voglio pure io! Domi lo scudo! No! Adesso ho 30 di video! Un'altra volta! Ragazzi, basta! 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 Non... Non gli vide! Ragazzi, basta! Non si può saltare in aria! Va bene, scusa, mi ha fatto male! Sto tornando a casa! Basta! Ok, signori! È il momento di chiamare l'esercito! Quindi andiamo qua! Clicchiamo start! Ok, dobbiamo mettere pronto! Mouse 4! E c'è il tuo altro mouse collegati! No, c'è! Non lo so! Stanno arrivando! Sì, ma sono arrivato! E c'è il tuo altro mouse collegato, tu? Non ho capito! Bruni, vedo! Qua sopra! Venite, venite! Ci sono! Stanno! Eccoli! Sparate, sparate! Prendo i cecchini! Sparo, sparo! Hanno un sacco di vita! Non muoiono subito, eh! Devi colpire più volte! What? Ragazzi, vogliono scendere, vogliono scendere! Ombra, dove andiamo? Non lo so, bro! Io gli vado con te! Ragazzi, sparo! Non funziona più la Q per givarsi gli oggetti! Non ti preoccupare, pasticcino amiele! È vero, non posso neanche volare! Pocket launcher! Sparate, sparate! No, 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 no! Arrivo! No, raga, 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 raga! Mi stanno facendo malissimo! Hanno le padelle in mano! In dietro, già! Sparate, sparate! Non c'ho armi buone! Raga, aiuto, aiuto! Ti aiuto io, Poggo! Ti ho scaccato di pistola! Aiuto! No, no, sto morendo! Ah, gli fanno malissimo, fanno malissimo! Va bene, io mi sto uccidendo nel frattempo! Ah, minigun! Io sto scappando in mezzo a loro! Ragazzi, andiamo al negozio del cane! No, cosa mi ha ucciso? No, come? Ma sono stato un po' a correre al negozio! Poggo a correre al negozio! Difficile! Ah, 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 ah! Spara, bro! Non so da cosa! No, però sono troppo! Uso l'arma segreta! Treno! Treno! È un'arma che lancia treni? Sì! Ah! Mi ha ucciso il treno! Non ci credo! Poggo, ce la devi fare! Sei tutti noi! Sei la speranza dell'umanità! Non fare ci versi, vai troppo a ridere! Sempre una cosa epica, però dai! Spara, Poggo! Poggo, ti mani... Zero secondi! Che succede? Ok, sono rimasti solo gli ultimi nemici! Vai! Elimita tutti! Attendo a non spararti addosso! Attendo a tutti! Ce la devi fare! Vai, bro! Ma questo non muore mai... Come ha fatto a volarmi il trattore in testa? Così sono morto anche io, allora! Ma come? Sono morti tutti! Cioè, sono morti per il trattore e io per il treno! Ma come? Perché? Non muore! Tutta laượng dei sottop eh! Non! Ce la devi fare are la piazza! Non sonoasti sì! No! Abbasi milioni dei